Giovedì 20 marzo, buonasera, ben trovati dal consueto appuntamento con la nostra rassegna stampa in edizione pomeridiana in studio per voi Alessandro Introcaso. Abbiamo approfondito in mattinata soprattutto i titoli dei nostri quotidiani nazionali, tanto si è parlato della questione relativa alla Crimea ma anche e soprattutto della politica italiana con Renzi che si è rivolta all'Unione Europea chiedendo diverse cose. Inoltre ha parlato anche dei provvedimenti relativi ai tagli, alla spending review di Cottarelli e oggi c'è stato un nuovo botta e risposta tra il nostro Premier e l'Unione Europea. Andiamo subito a vedere di cosa si tratta e lo facciamo ovviamente dai siti web poiché gli aggiornamenti principali delle notizie si trovano tutti su internet e avremo anche delle anticipazioni per i quotidiani di domani. Partiamo allora dal messaggero con Barroso Renzi e lo scontro sui vincoli dell'Unione Europea, quelli di cui aveva parlato l'ex sindaco di Fidenza e l'Italia rispetti i parametri del deficit. Arriva il monito dell'Unione Europea e Renzi dice stiamo rispettando tutti i vincoli per quanto riguarda invece busse e treni tariffe a rischio raddoppio. Questa potrebbe essere una delle misure che il governo potrebbe adottare. Botta e risposta tra il Presidente della Commissione Europea José Manuel Barroso e il Premier Matteo Renzi e lo approfondiremo tra pochissimo. Il sito del messaggero inoltre ci mostra anche le novità in merito all'aereo sparito. Trovati i possibili resti dall'Australia, due oggetti nel mare, questa forse la svolta per quanto riguarda la ricerca appunto del Boeing 777 scomparso negli scorsi giorni. L'inchiesta Baby Squillo si arricchisce di un nuovo particolare, spunta il nome di Bruno, figlio di un senatore di Forza Italia. E il padre dice lui non c'entra, io gli credo. Trovati inoltre a Parigi quattro bimbi sequestrati in casa dalla nascita, non erano mai andati a scuola, fermati i genitori. E per quanto riguarda invece il sito dell'Ansa, l'apertura ancora dedicata a Matteo Renzi che replica a Barroso, l'Italia rispetta i vincoli, un monito dell'Unione Europea su deficit, rispettare gli impegni e l'imperativo. Il premier a Bruxelles, via i fondi dal patto di stabilità. E per quanto riguarda la questione relativa all'aereo di cui parlavamo poc'anzi, il sito Ansa riporta una novità. Le ricerche australiane di eventuali resti dell'aereo maltese scomparso 12 giorni fa si sono interrotte e riprenderanno domani mattina. Lo ha annunciato l'autorità per la sicurezza marittima, secondo quanto riportato dalla BBC. Anche l'aereo da ricognizione P8 Poseidon della Marina Americana ha interrotto le sue ricerche. Secondo il giornalista della ABC che si trova a bordo, il reporter ha precisato che il velivolo americano non ha trovato i presunti relitti segnalati dai satelliti. Per cui per ora nulla di fatto da quelle ricerche, rimangono soltanto le foto scattate dai satelliti che lasciavano pensare a qualcosa riconducibile all'aereoplano. Quindi ci sarà da attendere ancora per avere ulteriori novità. Sul sito ANSA, inoltre, via il segreto dalle carte su Ilaria Alpi, il governo avvia le procedure per la desecretazione dei documenti raccolti dalla Commissione d'inchiesta del Parlamento dopo gli appelli dei giorni scorsi, anche quello di Laura Boldreni. E appunto andiamo anche sul sito di Rai News 24 per leggere insieme l'apertura, il botta e risposta a Barroso Renzi, il presidente della Commissione Europea Richiama l'Italia, che risponde subito con il suo premier che oggi, ricordiamo, e domani sarà a Bruxelles per il Consiglio Europeo e incontra anche il presidente della Commissione Barroso, con cui ha avuto questo botta e risposta e quindi chiariranno di persona. Il governo avvia la desecretazione dei documenti, questa la novità, sul caso Harpy Rovatin. E ancora, avvistati i due oggetti in mare, la Malesia dice pista credibile, ma come abbiamo visto dal sito ANSA, per ora nessuna novità. Sì del Senato alla parità di genere, alle europee, ma solo dal 2019, questo per quanto riguarda le quote rosa e poi maxi operazione antidroga, sequestrati 2.000 chili di cocaina alla Ndrangheta. Ripartiamo proprio da questa notizia di cronaca con l'approfondimento che ci racconta cosa è accaduto, una operazione trasversale, quella condotta dalle forze dell'ordine, il blitz della Guardia Finanza di Catanzaro, coordinato anche dalla DDA di Reggio Calabria, è stato organizzato in collaborazione con le forze di polizia di ben nove paesi. 2.000 kg di cocaina sequestrati e quasi 100 arresti tra Italia, Brasile e Peru. La cabina di regia di questo traffico internazionale, sventato dalla maxi operazione della GDF di Catanzaro, in collaborazione con altri nove paesi, era proprio nella Locride, in mano ad affiliati dell'Andrangheta della provincia di Reggio Calabria. La droga infatti veniva caricata sui mercantili provenienti dal Sud America, Brasile, Peru, Ecuador e Colombia e diretti al porto di Gioia Tauro e ai principali porti europei. Le indagini hanno dato luogo a due filoni collegati, l'operazione Buongustaio, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria e la Monte Pollino, coordinata dalla Procura Federale dello Stato di San Paolo del Brasile. Al filone d'inchiesta hanno lavorato il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, il procuratore di Reggio Calabria Federico Caffiero de Rao e il procuratore aggiunto Nicola Gratteri. In Italia gli arresti saranno circa 50, fa sapere il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, soprattutto in Calabria dove si sta procedendo all'arresto di 24 affiliati, ma anche in Piemonte. Altri provvedimenti restrittivi, circa una cinquantina in Brasile e Peru. Una inchiesta internazionale di dimensioni mai viste, realizzata con strumenti innovativi, è stato infatti utilizzato un modello investigativo transnazionale che può davvero rivelarsi vincente e rappresentare il futuro delle inchieste nel contrasto al traffico di stupefacenti. A spiegarlo è proprio Roberti, procuratore nazionale antimafia. Dunque complimenti alle forze dell'ordine per questa vasta operazione. Per quanto riguarda invece il sito di Repubblica, l'apertura dedicata ancora una volta al binomio Unione Europea-Italia e lo scontro sui vincoli di bilancio. Renzi si rivolge a Barroso, stiamo rispettando ogni impegno. Per Rani il Premier vuole fondi dell'Unione Europea fuori dal patto. Accelerazione sul Senato, la prossima settimana intanto si chiude, quindi tutte le novità che potrebbero dare una sferzata al nostro Paese e soprattutto all'azione governativa che Renzi sta mettendo in piedi. Per quanto riguarda l'aereo scomparso, due oggetti in mare, queste le immagini che abbiamo a disposizione, però nulla di fatto dalle ricerche odierne e anche dalla Crimea, libero capo della Marina Ucraina, Kiev dice allerta combattimento. Era stato catturato infatti il capo della Marina ma è stato rilasciato nella mattinata di oggi. Secondo la Merkel intanto il G8 non esiste più, poiché la Russia a quanto pare sarà esclusa dalle prossime riunioni. Per Garimberti l'Occidente non fermerà Putin, che quindi è determinato ad andare avanti con la sua azione. Si parla anche di Renzi però sotto altri aspetti. L'affitto infatti della casa dove lui viveva era pagato da un suo amico, Carrai, e il Movimento 5 Stelle chiede al Premier di spiegare questi rapporti con Carrai proprio in aula. Da Firenze intanto la procura ha aperto un fascicolo, per ora però nessuna ipotesi di reato e nessun indagato. Si cerca soltanto di capire perché l'affitto di Renzi fosse pagato dallo stesso proprietario della casa in cui alloggiava il primo cittadino di Firenze. Secondo l'entourage dello stesso Renzi e anche secondo lo stesso Carrai era semplicemente un favore ad un amico. Terra dei fuochi e terra delle menzogne, quest'altra notizia la troviamo nella colonna principale di Repubblica. Il dossier ministeriale sull'inquinamento dei terreni tra Napoli e Caserta suscita perplessità. Da Pompei intanto, rimaniamo ancora in campagna, un controllo, viene giù una porzione di muro in una domus. Sono state adottate anche delle misure straordinarie quali vigilantes e videosorveglianza. Su Tg.com 24 l'apertura dedicata a Renzi e Barroso, l'abbiamo già vista sugli altri siti. Da Pompei di nuovo questa notizia, crolla il muro di una domus, non c'è pace. In uno dei siti archeologici più famosi al mondo una piccola porzione di muro è crollata in una domus che si trova nella Reggio Quinta degli Scavi. Si tratta del secondo cedimento nel giro di tre settimane. E ancora dalla Colombia, otto mesi, pesa 20 chili, curato e salvato in tempo. Vedete la foto di questo bambino, tutte le volte che piangeva gli davo da mangiare, ha ammesso la madre e il peso raggiunto da Santiago è equiparabile a quello di un bimbo di sei anni e aveva soltanto otto mesi, per cui è stato salvato in tempo, poteva finire molto male per questo piccolo bambino. Non hanno mai visto il sole invece in Francia, altri quattro bambini reclusi dalla nascita. I piccoli da due mesi a sei anni sono stati scoperti dai servizi sociali in un appartamento e sono stati arrestati i genitori. Una tragica manovra da Cosenza, una bimba travolta e uccisa dal padre in automobile mentre stava facendo appunto manovra con il suo veicolo. E con questa notizia per il momento ci fermiamo, andiamo in pubblicità ma rientreremo tra pochissimo con tutti gli altri aggiornamenti dal web. Quindi non cambiate canale.